Qui ci sono tre errori di battitura Mi scusi, mi dispiace La ribatta Più zucchero nel caffè Sei copia di questa Ma cosa le prende? Accidente Può tirare fuori una voce più potente da quella sua minuscola gola Risponde l'ufficio del signor E. Edward Gray Se ha qualcos'altro da battere posso tornare più tardi? No, grazie signorina, buonanotte Venga immediatamente nel mio ufficio Finalmente Non si tratta degli errori di battitura ma del suo comportamento Cos'ha il mio comportamento? È molto riprovevole Non possiamo farlo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 Perché no? Io sono pazzo di lei Signor Gray Sono la sua segretaria Vuole davvero essere la mia segretaria? Sì, lo voglio